Davanti ai corpi dei tre figli e tre nipoti di Ismail Aniyye, uccisi ieri in un raid israeliano, un familiare esalta il martirio dei figli del capo politico di Hamas e promette che la resistenza palestinese vincerà. I tre giovani sono stati colpiti mentre viaggiavano in auto nel nord della striscia di Gaza. Erano operativi di Hamas pronti a colpire, ha fatto sapere l'esercito israeliano. Quello che il nemico non è riuscito a ottenere con le trattative non lo avrà con la distruzione, ha dichiarato Aniyye, che dal Qatar sta facendo da tramite tra Yahya Sinwar il pianificatore del pogrom del 7 ottobre e i mediatori egiziani. Hamas avrebbe respinto la proposta degli americani sei settimane di tregua in cambio del rilascio di 40 ostaggi. Ostaggi che, secondo quanto riferito dalla CNN, Hamas non sarebbe in grado di trovare. Questo potrebbe voler dire che i prigionieri ancora vivi nei tunnel di Gaza siano molti meno dei 100 stimati. In serata, alle 18.30 ore italiana, si riunirà il gabinetto di guerra israeliano per valutare l'andamento dei negoziati sulla tregua, ma soprattutto per decidere come reagire ad un attacco da parte dell'Iran che l'intelligenza americana ritiene imminente. Teheran sarebbe pronta a colpire con missili e droni israele per vendicare l'uccisione di un loro generale il primo aprile scorso. La vendetta iraniana potrebbe arrivare anche attraverso gli esbolla libanesi o le milizie sciite dispiegate in Siria e in Iraq. In ogni caso, ha minacciato il ministro degli esteri Israel Katz, siamo pronti a reagire.